sempre in pausa attenzione attenzione sala youtube venerdì sera con loro le ragazze che vengono da reggio miglia fantastiche tutte tutte le reggio miglia o c'è una che viene da un altro paese aspetta c'è nemmeno dite il paese viene da sesso che non voleva essere ripresa tra l'altro di sesso e lei la porno da villa la villa del sesso abbiamo una ragazza che avete trovato per strada è contentissima tra l'altro amato basso te lo avete racconto abbiamo una ragazza che stasera compie gli anni e titolo voi il nome daniela e quanti anni compie daniela 20 25 originalissimi tra l'altro ma soprattutto ragazze abbiamo lei la nostra futura sposa titolo voi chi è lei titolo di nuovo e la chiara si sposa con e questo george chi sarebbe quello che voleva trovare noi aspetta un attimo aspetta un attimo che la riprendiamo meglio dal suo lato migliore eccola qua peppa pig aspetta che non si capisce ancora ecco la gente a casa dovrà cercare ecco 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 stai 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 ciao sono peppa pig quella bella spieghi due parole è il cartone animato che guardano tutti i bambini del mondo praticamente il cartone animato che guardano tutti gli uomini del mondo è i bambini che uomini non è un porno un cartone per bambini e questo giorge chi è è il fratellino di bello tutti noi pensavamo un altro giorgio anche noi anche noi anche voi ci speravate ragazze anche voi ci speravate eh vabbè vabbè pazienza chiara mi presenti rapidamente tutte le tue amiche allora nell'ordine federica testimone che si sposa con stefano ok ci siamo cotolo 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 lo chiami cotolo dell'intimità no sempre come mai cosa non c'è cotolo è una storia lunga troppo lunga lo chiamano tutti cotolo lo chiamano tutti cotolo dell'intimità anche ok questo cotolo insomma cioè ti ha colpito della prima volta che l'hai visto ma certo ma proprio per il cotolo ha colpito in testa ti ha finito in testa eh certo no mi si è seduto in braccio direttamente così direttamente e tu l'hai accudito come un bambino eh certo che bello che bella che bell'incontro ultimissima domanda come ha fatto a chiederti di sposarlo ah me l'ha chiesto tante volte gli ho sempre detto vabbè lo faremo poi un giorno mi ha detto ma sì dai facciamolo una cosa romanticissima come d'accordo a intercorsi precedentemente sì ci dobbiamo anche sposare ok dai siete pronte a cantare mi raccomando ragazze di reggio avete una responsabilità addosso eh ok ok portatela avanti lei canta bene ok la nostra chiara le amiche di reggio il cioè Stefano quella e non è calda e tu per ti fare perché la domanda lo decide lei certe notti la strada non conta quello che conta è sentire che vai certe notti la radio che passa negli anni sembra avere capito chi sei Certe notti somigliano a un vizio che tu non vuoi smettere, smettere mai Certe notti fai un po' di cagnara e sentalo che non cambierai più Quelle notti fracosce e zantare e lebbia i locali a cui dai del tu Certe notti c'hai qualche ferita che qualche tua miglia disinferterà Certe notti coi bar che son chiusi al primo autogrin c'è chi festeggerà Non si può restare soli, certe notti qui Che si accontenta con te, così così Certe notti sei sveglio o non sarai sveglio mai Ci vediamo da male o prima o poi Certe notti ti senti padrone di un posto che tanto di giorno non c'è Certe notti se sei fortunato bussi alla porta di chi è come te C'è la notte che ti tiene fra le sue tette un po' mamma un po' porca con me Quelle notti da farci l'amore fin quando fa male, fin quando ce n'è Non si può restare soli, certe notti qui Che si accontenta con te, così così Certe notti, certe notti sono notti, le regaliamo noi Santo Mario riapre prima o poi Certe notti qui, certe notti qui, certe notti qui Certe notti, certe notti, sei solo più allegro, più cordo, più تcene quel coglione che vuoi, quelle notti sono proprio quel vizio che non voglio smettere, smettere mai, non si può restare soli, certe notti qui, chi chissà contento a godere, come così, certe notti sei sveglio, o non sarai sveglio mai, ci vediamo davvero, prima o poi. Certe notti qui, certe notti qui, certe notti qui, certe notti qui. E brave le ragazze di Reggio Emilia, fatemi un applauso, fantastiche, bravissime, certe notti qui, le abbiamo noi al convento di Lonato, Chiara, la nostra futura sposa, e tutte le sue amiche. Sì, ragazze, abbracciatemela, abbracciatemela, e fatemi un bacio a Chiara che si sposa, sì. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.